Bella Collection Show 2018 a Torino, siamo con Marco Burro, responsabile della comunicazione degli eventi e gli chiediamo, una formula mai consolidata, un palazzetto gremito, qual è il futuro dei vostri show? Tanto grazie di aver accettato il nostro invito e di essere qui con noi anche quest'anno. Il problema della formula che funziona è che arriva a un punto in cui bisogna cambiarla. Già dall'anno scorso abbiamo fatto un cambio perché da Bologna siamo arrivati dopo tre anni di Bologna a Torino e è stato un po' un azzardo perché Torino ha un posto meraviglioso, un palazzetto strepitoso, forse il più bello d'Italia però è anche difficile da raggiungere, tant'è che pensate che noi abbiamo portato circa 500 clienti da Linate, Malpensa e Ore al Serio perché non riuscivano ad atterrare a Caselle. Detto che chiaramente la logistica non è sempre fantastica, la verità è che la risposta del pubblico è grandiosa e questo ci appaga e ci fa capire che comunque funziona ancora. Devo dirvi che per l'anno prossimo vorrei provare qualcosa di diverso, sono abbastanza tentato anche se poi il processo di selezione di un format passa attraverso stadi approvativi anche lunghi di ritornare un po' sul territorio e quindi piuttosto che far venire tutti da noi, noi a casa dei parrucchieri. Quindi anche a livello internazionale o solo su Italia? La sinergia con l'internazionale in realtà non ha mai funzionato molto, devo dire con rammarico qui oggi abbiamo ben 11 clienti svizzeri, in realtà ne potevano venire molti di più, potevano arrivare dalla Francia perché eventi del genere fra l'altro loro non li fanno, quindi la verità è che rimaniamo ancorati al territorio l'Italia si fa i suoi, le altre nazioni si fanno i loro, nessuno arriva a questi numeri anche perché francamente la macchina organizzativa che c'è qui è notevole, abbiamo 31 alberbi completamente prenotati, 1820 stanze d'albergo, 300 autobus che movimentano le persone, la cena all'ingotto con 3.250 persone, 15 metri, 200 camerieri, cioè che danno un'idea di quanto sia difficile e quindi poco riapplicabile francamente. Però ecco il rammarico è non riuscire ad uscire dalle singole nazioni e fare un percorso globale o anche solo europeo portando i nostri clienti da altre parti e ospitando i clienti stranieri in Italia. Senti, un evento di grande importanza mediatica anche dal punto di vista digitale, noi anche come estetiche lo seguiamo su tutti i nostri canali social, quanto è importante adesso? Quando siamo partiti eravamo analogici al 100%, cioè eravamo convinti che l'importante era concentrare tutti gli sforzi per soddisfare i 3.000, 4.000, 5.000 che venivano a vederci. Ora abbiamo capito che oltre al fatto che dovremmo dare per scontato la soddisfazione di chi c'è e dobbiamo anche fare in modo che chi non c'è, e sono circa 85.000 stando agli ultimi nubili di Unipro possano vedere quello che facciamo e magari l'anno prossimo venireci a trovare. Ecco, allora senti, a proposito di Unipro, a proposito diciamo di fiere internazionali un ritorno anche al Cosmoprof quest'anno con un grande stand OPI e due show? Siamo timidamente ritornando al Cosmoprof dal quale in realtà siamo usciti più che altro per una crisi di identità che non perché la fiera non ci piacesse più. OPI è ovviamente un'occasione anche per sperimentare un dialogo con le estetiste. Entreremo nei saloni a breve, ma ovviamente è un percorso che prevederà stadi variabili, chiamiamoli così. E quindi OPI è un momento per ritornare a fare stand come li facevamo in passato. Gli show sono un momento di dialogo soprattutto con i clienti che non amano venire a vederci qui e quindi li andiamo a trovare noi. È un po' il discorso del ritornare vicino al parrucchiere. Ecco, senti, che cosa vorresti della categoria che ancora non c'è? Proprio un'esigenza che senti come grande multinazionale, come Ecco T Professional Beauty? Beh, il parallelo col cuoco chef a me piace molto, lo facciamo tutti, forse è banale. In realtà pochissimi parrucchieri sono diventati chef, molti di loro sono rimasti parrucchieri. Quindi è chiaro che se il parrucchiere diventa chef anche il nostro lavoro diventa ancora più bello. Vi faccio un esempio, quando noi facciamo i backstage di X Factor piuttosto che dei grandi eventi del cinema il 90% di chi ci viene alla fine non sfrutta realmente l'opportunità che per me è quella di far testare le capacità di un ragazzo giovane e brillante in un'area complementare a quella del salone. Vengono per fare le foto con i cantanti e questo per me è più cuoco che chef. E quindi io sarei veramente onorato se il parrucchiere, la categoria, salisse di un livello non soltanto nelle abilità pratiche e manuali ma proprio in quelle, se vogliamo, imprenditoriali a 360 gradi. Allora, per intanto, tante strategie per il futuro da parte di Coti Professional Beauty. Per intanto ci godiamo questa due giorni straordinaria a Torino con il Vella Collection Show 2018. Grazie Marco. Grazie a voi, vado a preparare la cena. Grazie a voi.